Calderoni Calderoni Fatto in quarantena Calderoni Vado fatto in quarantena D'accia pomo Calderoni Comunque tutta sta roba di sta pandemia mi ricorda un po' tutti quelli scenari cyberpunk alla Blade Runner ma forse più simili a Rank Xerox dove ormai si vive sopra i palazzi E' stato detto in una nato vocale condivisa da tutti su Whatsapp nel 2020 da tale virologa Renata Falli in cui si spiega che il virus rimane a tre metri d'altezza Anche se a questa nave non l'avevamo mai vista in faccia noi gli avevamo creduto tutti e quindi siamo rifugiati pieni di sopra Non è cambiato molto la fine eh La puzza di strada continua sempre a non piacerci Ma non è che sia scomparsa, è solo cambiata, diversa, c'ha tutta un'altra fragranza I corridoi dei palazzi nelle terrazze sono diventate nuove strade in quei quartieri dove i palazzi distano i chilometri hanno costruito sti mega viadotti e vanno da un edificio all'altro Questo è come si presenta oggi a Bufalotta Ormai ai parchi in cesopo piano Araggi ha finalmente trovato un'occasione per far sta cazzo di funivia e hanno aumentato le reti stradali sopraelevate Cazzo mona casa la Fantozzi che si affaccia l'autotangenziale costa oro L'autobus al volo è diventata quelli di in età Fantozzi è sempre stato avanti Certo non c'è da stupirsi che il servizio ATAC negli anni sia peggiorato Anche se adesso hanno inventato sta specie di megatreni su ruote senza conducenti che vanno via fibra Però come operatore usano wind Quindi non me fido troppo e preferisco girare a piedi La storia di oggi è proprio la mia Quella di un umile ragazzo tertufello che va a trovare l'amichetto suo pisellone a trastevere Prima però passo da Ionio vado appiato alla roba Oh sono Renato fammi entrare mi serve una mano Bella come stai che si dice? Oggi mi devo fare una bella traversata carcola dove arriva fino al centro e cazzo non ci voglio arrivare impreparato Fammi vedere un po' che c'hai Con cosa mi delizi quest'oggi? Ah bene bene Però che hai tirato fuori Questo a quanto me li metti? Eh Renati me lo chiedi ogni cazzo di morta Quella piattella so dei maiali e te le faccio 8 Quella ovulo so dei vitale e te le faccio a 12 Poi chiaramente dipende da quanto me pigli Ok allora signora Giovanna Mi faccia un po' quelle dei maiali sa De sti tempi tocca risparmiare Vabbè Renati che faccio te li metto sotto vuoto Magari Giovanna che devo passare da termini Dopo l'esodo è quasi impossibile trovare da carne La terra non viene più presa in considerazione Più facile cottivarsi i broccoletti in balcone che allevarsi i maiali Passo sul ponte sopra il ponte di via delle valli Me faccio via le Libia Piazza Bologna ed Esquilino Porco 2 qua la situazione è grave Cioè strana più che grave Tutti i cinesi sono rimasti sotto le strade A quanto pare si trovano bene Non si fanno evite Mentre l'eternia che ha preso il sopravvento è quella indiana Sta tutto in mano agli are Krishna Se volete mangiare qualcosa di autentico Venite qui Gli indiani sa farti che roba vegetariana Per le vie del centro è tornata tutto come prima Con l'abbattimento del turismo Ste strade sono tornate in mani ai romani Nei vie intorno a Piazza Venezia Sono anche tornate quelle tradizioni folcloristiche Fuse con i moderni flash mob delle 18 Finalmente riesco a beccarmi con l'amico pisellone mio a Trastevere Sopra San Callisto Mi fa un po' strano vedere sta piazza così vuota Tanto che non venivo Oh comunque la signora Giovanna Meglio proprio che sta dove arriva sta carne Dalla Giustiniana mi ha detto Ma non voglio manca approfondire Ah si? Calcola sta cercando i battifezzi E sta diventando i videochat Sto a fare la stessa vita di mio padre Solo che sta un po' più in alto Ma da sta storia non ho imparato niente pisellone L'unica cosa è che mi sono fatto un sacco di domande Sulla vita prossima Su quella che c'era prima E su quella che ci sarà dopo Tipo? Spare in una? Mo Non per metterti ansia Ma un quesito terra terra Io mo lo so fatto Il motorino tuo Che hai parcheggiato in strada prima di tutto questo E' controllato se ci sta ancora Che hai parcheggiato in strada prima di tutto questo